Allora Ele, vuoi vincere 50 euro? Ovvio! Eh, lo sapevo, accetto! Hai due numeri nove Ok Devi riuscire, spostando solo due pennarelli Ma per ogni... Spostando solo due pennarelli Devi riuscire a creare il numero 25 25, allora... Tic 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 Cosa stai pensando? Cosa stai pensando? Ti aventi? Ma noi No, renditi Uno Sì, uno Cos'è quello? Renditi? No No, renditi Ma è difficile? No È difficile, Aia Grande 95 Non lo posso tenere tu? No, non lo posso tenere tu? Sto spostando solo due pennarelli Ah, non li puoi levare? Eh Non li puoi levare? Eh Non li puoi levare? Rimanere comunque sul tavolo Sto sul tavolo? No 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 Venditi Venditi, Ele È troppo difficile No, spesso ci sto Ma dov'è che ci sta? 55 Ho detto 20 35 Di nombola Di nombola Che regno Eh Nera, nemmeno tutto questo è difficile, devo dire, eh ragazzi Io ve lo faccio Voglio nemmeno No 99 Non è, 99 Di nombola Di nombola ah